Laili Lail sarebbe piombato sull'attaccante avanzando una richiesta a mostre al Napoli di 140 milioni per il cartellino, mentre al classe 98 sarebbe stato proposto un ingaggio da un milione di sterline a settimana, ovvero circa 60 milioni di euro a stagione, fino al 2026. Gli arabi potrebbero alzare la proposta sul piatto per avere il nigeriano in squadra, confermata non tanto la richiesta di De Laurentiis dai 200 milioni. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!